Ciao a tutti e benvenuti su Track Channel. Oggi voglio consigliarvi di fare un backup dei dati salvataggio di Elden Ring, visto che molti utenti hanno avuto la dispiacevole situazione di veder perse ore e ore di gioco. Perché tutto ciò? Perché a volte durante l'avvio di Elden Ring ci chiede il caricamento dei dati o dal cloud di Steam oppure direttamente dal nostro computer. Spesso si pensa che il cloud di Steam sia quello più aggiornato, purtroppo invece potrebbe capitare che il cloud di Steam ci sia un salvataggio molto più indietro. Quindi con parecchie ore di gioco. È capitato a un mio amico, quindi ho deciso di mostrarvi dove si trova i salvataggi nel vostro computer di Elden Ring. Quindi si va su C, utenti, in questo caso ha le track che io ho, voi dovreste avere il vostro non utente. App data, se non ve lo fa visualizzare andate qui su visualizza, elementi nascosti, quindi attivate elementi nascosti. Quindi si va su App data, Roaming, Elden Ring. Questa cartella pesa un cavolo, 55 MB. Quindi il mio consiglio è questo. Ogni volta che finite a giocare ad Elden Ring vi consiglio di fare un copia e un incolla. Cioè il discorso è questo, non è che se fate un'ora di gioco, mezz'ora di gioco, ogni volta dovete fare questo. Io lo faccio se ho passato quelle 3-4 ore, ho fatto qualcosa di importante, ho sconfitto un boss abbastanza arduo, quindi automaticamente non rischio di perdere i miei dati e faccio il backup. Questo è il mio consiglio. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e al prossimo video con Track Channel.